bella a tutti ragazzi io sono chanfim e questo è ciocchiettoni bella regà siamo tornati dopo tipo 5 secoli insieme insieme al studio e insomma oggi faremo una challenge cioè oggi verrà pubblicata la crossbar challenge e facciamo tre challenge oggi facciamo la prima la crossbar challenge è la seconda della pubblico la prossima settimana e anche la terza ne faremo tre quindi le prossime settimane usciranno man mano e nanzi iniziamo con la crossbar challenge e il primo che arriva a cinque cinque traverse il primo che arriva a cinque traverse e vince spero che se vedo non lo faccio vabbè partiamo inizio io? sì va bene iniziati allora aspettate un attimo che devo poggiare la mia borraccia io la prima portata è la giovane mi paga borraccia sì 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 vai vai Come va Metto Metto Sì, le due, 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 le due! Vai! Vai, lì, che va fuori! Fuori! Let's go, loco, tutto! Dale! Jumpy man! Meta! Dai, tanto è una pipa! Questo è il ciocchettone che rinfora il pallone! Fa! Ecco, le due, le due, le due! Se vedete il mio triccio, io sto guidata dalla telecambale! Raga, si ha massuto peggio dei pallini qua per terra! Mamma mia, centrale, raga, centrale! Gianfimenne che si disseta in questo momento! Allora, raga, visto che siamo troppo piccoli, io ci ho fatto... Sì, è giustissimo! Ma è troppo caldo! Già il video è arrivato oggi quasi a 5 punti! Qua è arrivato adesso! Sì, vai! Si appresta a tirare! Meta! 3 a 0 banasa, va più al pallone! Di esterno, però! No, vabbè, sericamente se vuoi! C'è questa partita troppo male! Vai Gianfimenne, vai! Basso, basso! No, non l'hai presa! Non l'hai presa! il pallone non siamo tra i professionisti che te scordi dai va dopo 1.584.904 e 2 vai jumpyman stai perdendo a 1 solo gol 6.35 attenzione non va vai jumpyman vai basso basso vai troppo alta la palla jumpyman si si fuori non va vai jumpyman vai falta ragazzi via si 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 tu traverzo devi riguardare il tuo traverze per vincere e vai il pallone è tornato go ho vinto a casa? oh dai surta un po' ho vinto regà devi pagare la sfida ok vai la prima challenge è finita mi raccomando almeno non so quanti 15 ho vinto il jump me ne ha perso come sempre adesso faceremo una nuova challenge però oramai è inevitabile faremo la rigori challenge quando arriviamo a 15 like per una prossima challenge del genere sui rigori ci stanno assalendo con tizia bella ragazzi